Ancora un altro appuntamento presso Masseria Iesce, questa volta con uno spettacolo musicale che si terrà mercoledì 2 agosto a cura di Carmine Torchia dal titolo Affetti con noti a margine. Negli studi di Teleappula, Francesco Calderoni, collaboratore di Donato Laborante, canta storie di Ferula Felita. Di cosa si tratta? Sì, grazie per quest'annessimo opportunità di pubblicizzare le attività culturali che si tengono all'interno di Masseria Iesce. Masseria Iesce, in qualità di chi organizza, che è Donato Laborante, conosciuto da El Tamurani come Emar Orrante, organizza nella sessione estiva una serie di incontri culturali, tra cui il prossimo che ci sarà è appunto quello di mercoledì 2 agosto, in cui c'è questo musicista abbastanza conosciuto che si chiama Carmine Torchia, che tiene questo incontro musicale che si chiama Con affetti di note a margine. Carmine Torchia è un musicista che è già venuto in altre occasioni ad Altamura, nel centro di Altamura, a sostenere Donato Laborante in momenti di solidarietà, quando Donato cercava di combattere l'incuria dell'altamurano riguardo la sua città. Carmine Torchia, in questi 15 giorni di lotta da parte di Donato, viene a fare solidarietà appunto a questa iniziativa. Pertanto il mercoledì 2 agosto ritorna a sostenere questi incontri estivi, che si chiamano Namaste, ritorna con il mercoledì 2 agosto. Si può vedere l'evento sulla pagina Facebook di Masseria Iesce, Teatro della Memoria, questo evento e man mano verranno caricati anche gli altri eventi culturali che si terranno presso questo luogo che è di partenenza del comune di Altamura, quindi della comunità altamurana. Come al solito un incontro aperto a tutti. Sì, sì, è un incontro aperto a tutti, ai cittadini altamurani, a chi ama la cultura, a chi cerca qualcosa di diverso e di appetibile alla coscienza o alla mente.